Simone Truscioni è saltato in collo a Conti se non mi sbaglio, finita la partita, la volevi vincere in tutte le maniere questo Stargame? Sì, sì, ci ritenevamo perché primo Stargame, è piazzale e come tutte le cose il primo evento è quello che rimarrà alla storia, noi l'abbiamo vinto e siamo felici. La finale è molto tesa con i bianchi, bella, agonisticamente loro sono rientrati alla fine, poi secondo me avere Andrea Zerini in squadra è un bel vantaggio secondo me, no? Sì, sicuramente sì, di sicuro allenare Andrea Zerini è una fortuna per chi ha la possibilità di allenarlo, però vorrei fare un applauso a tutti i ragazzi, si sono allenati davvero dal primo giorno benissimo, mi hanno messo in difficoltà a covarne 12 perché ci hanno messo cuore, anima e voglia e il risultato, la vittoria qua con questo bellissimo sfondo se la sono meritata davvero, anche perché abbiamo giocato due partite, siamo stati in testa al primo e all'ultimo minuto in tutte e due, quindi bravi, bravi, bravi. Ascolta, mi fai un consultivo, un bilancio finale, manifestazione bellissima? Manifestazione bellissima, spero che abbia un futuro, abbia una storia e noi l'abbiamo aperta questa storia, siamo i campioni in carica e siamo felici di questa.